Certo, questa battuta adesso non aiuta eccentamente l'ambiente, non aiuta perché dà coraggio alle altre squadre, perché adesso chi affronta il Catania sa che insomma non può battere, quindi già mettevano il 110%, adesso magari sapendo che il Catania può perdere delle partite, quindi insomma non ci voleva, anche se sono sicuro che anno lungo il Camerato lo vince, però certo non è che ha perso una partita, non può perdere altre partite perché davanti poi c'è questa attività, insomma, però poi è difficile rincorrere. Poi perché devi giocare mercoledì e domenica, insomma è più difficile, diciamo, fare tre partite nella settimana non è semplice. Serausa sono cresciuto lì come uomo e come calciatore, soprattutto come uomo perché sono andato lì a 18 anni, quindi sono rimasto 6 anni e quindi diciamo che è stata la mia seconda casa, il mio trampolino di lancio, insomma, sono cresciuto lì, quindi non ho dei ricordi bellissimi, di Siracusa, mentre invece Catania è il sogno di tutti i ragazzi del Catanese, insomma, della zona. Mi partirebbe una tripla perché il Siracusa è in ripresa, mi è difficile per pagare che un amico, compagno di squadra, siamo stati assieme, si è dimesso e non c'è più, quindi una partita di fida a tripla, anche se c'è in Catania, giocanti in calcio è favorito.